Familiari e pazienti affetti da sindrome dello spettro artistico vivono quotidianamente difficoltà di inserimento nel contesto sociale e si trovano spesso anche abbandonati dalle istituzioni che dovrebbero dar loro aiuto. A Pagani la svolta è arrivata in tal senso con l'inaugurazione della nuova sede di autismo fuori dal silenzio presso un bene confiscato alla criminalità, un centro moderno e funzionale che fa dell'accoglienza alla sua mission una struttura resa possibile anche grazie a supporto all'associazione nella sua costante opera di sensibilizzazione non sono mancate belle testimonianze anche dal mondo dello spettacolo è il caso di Aironi Comunicazione che con lo spettacolo serata d'onore ha supportato i lavori presso il bene confiscato di via di risorgimento ma sono davvero tante le associazioni che hanno fatto sentire concretamente la propria vicinanza. Ringraziare Aironi Comunicazione che ci sta sempre vicino quindi con questo spettacolo ha contribuito comunque ad arricchire questa struttura quindi c'è stata donata una televisione che comunque sarà parte degli interventi che facciamo qua dentro poi è doveroso comunque ringraziare tutte le persone che hanno partecipato ad allestire questa struttura tante erogazioni liberali, tante persone che ci sono state vicine e hanno donato delle cose voglio ringraziare veramente a profondo del cuore tutte le ragazze che stanno con noi in associazione tutti i volontari che tutti i giorni supportano noi come famiglie e stanno vicino ai nostri figli che li trattano veramente con grande amore ringraziare i pilastri dell'associazione perché chi ha fatto tutto questo siamo pochissimi genitori che insieme hanno veramente assunto delle grosse responsabilità ringrazio l'amministrazione che ha contribuito insieme con noi a realizzare anche perché il bene è una proprietà del comune per cui ci è stato assegnato dal comune e noi con tanti sacrifici li abbiamo allestiti quindi è un segno importante anche dal comune in cui si realizza per il territorio una struttura una realtà particolare a supporto della gente quello che è stato fatto non è qualcosa che è personale, qualcosa che è di nostro ma è qualcosa della collettività per cui chiunque ha bisogno di un supporto chiunque ha bisogno di aiuto noi siamo completamente a disposizione metteremo in gioco la nostra esperienza i nostri ragazzi, i nostri esperti che seguono i nostri figli nelle attività grazie a tutti grazie a tutti